... Martedì 10 marzo, buongiorno, ben ritrovati a tutti i cari telespettatori di Fano TV e ben ritrovati alla rassegna stampa del mattino. Allora diciamo subito che questa collocazione che ci vede in onda, in diretta alle 7.30 è solo eccezionalmente per questi giorni, almeno fino a sabato quando ci sarà la messa alle 7, quindi non ci sarà quella delle 7.30 da Loreto ma ci sarà la messa in diretta dalla Cappella di Santa Marta, come avete appena visto, con il Papa. Quindi fino sabato questa sarà la collocazione messa alle 7, 7.30 la prima edizione della rassegna stampa. Andiamo a vedere il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi la chiesa ricorda San Macario di Gerusalemme, il sole è sorto alle 6.28 e tramonterà alle 18.09. Il tempo previsto per oggi dalla protezione civile delle Marche sarà sereno, poco nuvoloso con temperature in aumento le minime e stazionarie le massime. C'è un po' di vento, mercoledì domani 11 marzo, cielo sereno su tutta la regione Marche così come per la giornata di giovedì 12 marzo, ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazione di rilievo. Tempo buono anche per i prossimi giorni. Allora ricordatevi che non si può uscire di casa da oggi per tutto il resto della regione. Noi della provincia di Peso Urbino già lo sapevamo, eravamo già in questo regime. Se dovete uscire di casa lo potete fare solo se avete dei motivi validi. Tra queste esigenze comprovate per andare a lavorare, quindi dovete andare a lavorare. Se avete un'emergenza sanitaria o se avete una necessità, tra cui anche quella di fare la spesa. Ma fare la spesa non con tutta la famiglia al seguito. Esce una persona, fa la spesa e torna a casa. Ricordatevi che c'è un modulo che si può scaricare anche sul sito del Ministero dell'Interno che potete tenere con voi anche in automobile. Se vi ferma la polizia e i carabinieri vi fanno un controllo, potete compilarlo anche lì seduta stante, così come prevede la direttiva del Ministro Lamorgese, seduta stante, dove voi dichiarate cosa state facendo e perché siete in strada e non siete a casa. Ricordatevi, come ha detto anche il Premier Conte ieri sera, quando ha annunciato a tutta Italia le restrizioni che ormai tutti conosciamo, che dichiarare il falso vi mette in una posizione terribile e quindi non conviene. Detto questo, andiamo a leggere i giornali. Cominciamo dal resto del callino e vediamo la prima pagina. Morte e paura. Altre sette vittime sono tutte in provincia. Altre sette vittime, nel senso, è il bollettino, il bollettino da guerra del coronavirus. La provincia prova a reagire. Non ce l'ha fatta Gianna Sanchioni, la fanese di 81 anni, tra le prime ad essere stata contagiata. Addio anche a Paolo Cantini di 67 anni, molto noto a Pesaro. e in provincia di Pesaro Urbino altri cinque deceduti. Ecco perché cinque pesaresi e gli altri due invece fuori provincia. Ma a Pesaro si piange anche la morte di un 46enne, un tifoso bianco-rosso che si è spento nel sonno, aveva fatto il tampone, adesso probabilmente bisognerà attendere appunto il risultato. I positivi, i positivi andranno anche a Fossombrone, il piano è da 400 posti letto, poi c'è la notizia che il sindaco di Urbino Gambini è anche lui finito in quarantena, resto a casa, ma sto bene. E poi il caso del San Decenzio, il mercato, prima si fa, poi non si fa, scoppia la bufera e dunque il dietrofront. Affano invece i ristoratori che hanno deciso, in un numero assolutamente importante, 60 persone, 60 ristoratori che hanno deciso di chiudere totalmente fino al 3 di aprile. E poi i controlli, i controlli che sono stati fatti alla stazione. Ieri a Pesaro la polizia ferroviaria ha fermato alcuni viaggatori e ha detto dove state andando. E poi il caos, il caos nelle carceri italiane, c'è allarme in quello pesarese a Villa Fastigi, interviene l'associazione Antigone, poi VL, VIS, Fano, lo sport, tutti i dilettanti, lo sport che si ferma, lo sport ai box, il coni ferma tutto, palas e campi vuoti. Williams, per quanto riguarda il basket, la VL lascia la carpegna prosciutto e dice può bastare così. Ma ecco la fotografia di Gianna, detta Giannina Sanchioni-Cornacchini, 82 anni, fanesi, una delle cinque vittime di ieri. Il giorno più tragico ieri è stato, in sette non ce l'hanno fatta, tutti della provincia, che paga ancora un prezzo altissimo. Si è spenta l'anziana fanese tra i primi ad essere contagiata insieme con il marito. Ed ecco chi sono le vittime. L'articolo lo trovate sul resto del Carlino oggi in edicola. Io mi limito soltanto a dire che salgono a 12 il numero delle vittime dall'inizio di questa emergenza. Oltre a questi casi ce n'è un altro collegato al virus, ma non è ancora stato ufficializzato dai sanitari. Si tratta di Paolo Cantini, imprenditore conosciutissimo a Pesaro per le innumerevoli iniziative nel settore dell'intrattenimento e della ristorazione. Mentre c'è un altro contagio che sarebbe avvenuto a Fano da parte di un residente di Sassoferrato in provincia di Ancona che nei giorni scorsi era giunto nella città della Fortuna per assistere ad alcune gare sportive della figlia. È un operaio di 46 anni che è ricoverato adesso da domenica a Torrette di Ancona nel reparto di malattie effettive. La moglie racconta che quel giorno c'era il carnevale a Fano in centro, noi però ci siamo tenuti a distanza. A Fano eravamo invece al palazzetto dello sport in mattinata per una gara sportiva di nostra figlia. Lei dice che probabilmente abbiamo contratto lì il virus perché è l'unica uscita che abbiamo fatto. Ma a proposito della seconda vittima del coronavirus, quindi alla signora Cornacchini, il resto del carlino la ricorda come la signora delle scarpe perché appunto la Cornacchini la conoscevano tutti. aveva questo negozio di famiglia in via Arco d'Augusto, un negozio di scarpe, di borse, da lei gestito tra l'altro anche fino a una decina di anni fa. La donna era ricoverata dal 27 febbraio insieme al compagno con i sintomi tipici del virus, quindi tosse, febbre e morte nel pomeriggio di ieri a San Salvatore. Tra l'altro, dicevamo, una famiglia molto nota perché i figli Giovanni, ex calciatore di Serie A, ha giocato anche nel Milan, nel Vicenza, ha allenato il fanucalcio, eccetera. Poi c'è Annalisa, Annalisa Cornacchini, che era giocatrice e dirigente della Virtus Volley. E poi c'è il terzo figlio, Simone, insegnante. A tutti loro, ovviamente, le condoglianze anche da parte nostra. Poi c'è un'altra vittima che è stata la prima, Bruno Longarini, il suocero dell'ex consigliere comunale Enrico Fumante, che era ricoverato il 24 febbraio dal Santa Croce di Fano con febbre alte e difficoltà respiratorie, ed è morto il 2 di marzo. È morto anche, eccolo qua, Paolo Cantina. Cantini, scusate, è morto ieri all'ospedale di Senigallia. La sua è una situazione compromessa, era anche immunodepresso. il coronavirus, racconta la sorella, probabilmente gli ha dato il colpo finale. Laura, che è la sorella di Paolo, si raccomandava sempre di mettere la mascherina quando serviva ai tavoli, aveva contatti con i clienti del ristorante. Lui rispondeva, ripeteva, un po' anche inconsciamente, un po' così. Ripeteva che non si era mai visto un ristoratore che arrivava dai clienti con la protezione davanti alla bocca, eppure era quello che doveva fare. E questo ha raccontato appunto la sorella di Paolo, che aveva 67 anni e che si è spento, come dicevamo ieri, ristoratore a Baia Flaminia, in passato aveva gestito anche locali frequentatissimi come l'Eta Beta, il Chiro Chiro. La sorella dice che è risultato positivo al virus e questo risultato l'ha ricevuto ieri in tarda serata. Ma Pesaro piange anche la scomparsa di un 46enne, si chiama Andrea Rossi, ed era conosciutissimo anche lui da tutta la città, perché era un grande tifoso della Vispesoro, quindi calcio e della VL, basket. È stato rinvenuto ieri mattina senza vita dalla madre, che era andato a svegliarlo per fargli fare la colazione. Ed è morto nel sonno, forse per colpa del coronavirus, però anche qui ancora dobbiamo attendere, si attende l'esito del tampone. Però aveva febbre, aveva febbre da qualche giorno, potrebbe essere rimasto contagiato nel centro diurno che frequentava e che dove tra l'altro c'era già un suo amico risultato positivo con ricovero ospedaliero e conseguente rianimazione. Andiamo in ospedale adesso. Il resto del Carlino, in queste pagine, ce ne sono tante, di emergenza Covid-19, parla degli aiuti che stanno arrivando all'ospedale e all'azienda ospedaliera Marche Nord. Nella fotografia grande vedete il direttore generale, Maria Capalbo, che ringrazia, loda gli industriali per la donazione di tutte queste macchine. Ne saranno acquistate, anzi credo che arriveranno a ore, 15 per un totale di circa 400 mila euro. Sono tutte in pronta consegna perché gli ordini di acquisto sono partiti ieri, oggi arriveranno ecco le macchine, macchine che sono, non lo dimentichiamo, fondamentali. fondamentali perché servono per tenere, per consentire la respirazione a questi pazienti, ma poi anche per allestire altre stanze, liberarne di conseguenza altre per quelli che sono magari un pochettino, un po' più, hanno bisogno più di assistenza. Insomma, questo è quello che sta succedendo, grazie anche a degli imprenditori che si stanno mettendo in moto, si sono subito messi in moto donando questi soldi. Così come ha fatto la banca di Pesero che è scesa in campo, questa volta non per dare dei soldi, ma soprattutto per andare incontro alle persone, ai clienti, con una moratoria sui muti e non solo. Marche multiservizi operativa, ma meglio comunicare a distanza, sono le raccomandazioni dell'azienda che ha sede anche a Pesero. Per quanto riguarda invece la curva dei contagi, la situazione nelle Marche, come abbiamo detto anche ieri, non è un granché, non è bellissima, perché è simile a quella della Lombardia. Ceriscioli è preoccupato infatti da questo trend di crescita, siamo a quota 246, il piano di 400 posti letto regionali, c'è anche in questo piano Fossombrone, sono previsti reparti per i positivi anche a Pesero, Fano, Camerino, Fermo, San Benedetto, Ancone e Chiaravalle e per chi è in fase di recupero andremo a Fossombrone, Chiaravalle in un'area di torrette e poi anche a Fermo. Mentre la pagina 6 del resto del Carlino si occupa dei ristoratori, ristoratori che in molti hanno deciso di chiudere fino al 3 di aprile, finché si spera non finirà questa emergenza. Intanto dicono sia l'asporto, ma è caos invece sulle estetiste, non si sa bene, sono 140 in tutta la provincia queste estetiste e sulla categoria per ogni momento regna un po' la confusione, molti chiedono, anche a noi insomma hanno chiesto cosa fare, cosa non fare. Mentre c'è stata una riunione tecnica ieri mattina a Palazzo Gradari a Pesero tra le associazioni di categoria, l'assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci, il sindaco Matteo Ricci per dare chiarimenti su come i titolari delle varie attività si devono comportare. Abbiamo detto che per quanto riguarda i ristoranti, insieme a bar, pizzeria al taglio, piadinerie, paninoteche, gastronomia, gelaterie, pasticcerie, pub, birrerie, self-service, take-away, si vedono confermati gli orari di apertura alle 6 del mattino e chiusura obbligatoria tassativa alle 18, quindi alle 6 del pomeriggio. E quindi questa attività, tra l'altro anche negli orari di apertura, come ricordiamo ormai da giorni, va fatta evitando assembramenti. E sulla questione degli assembramenti il provvedimento di questa notte, della scorsa notte, sugli assembramenti anche all'aperto sarà molto più severo rispetto a come è stato fatto fino adesso. A Urbino invece la spesa verrà consegnata gratuitamente e i baristi servono ironia. Mentre l'altro titolo, l'altra pagina del resto del carino, isolati e over 65 la spesa, i farmaci arrivano a casa, il Comune lancia il servizio grazie ai volontari della protezione civile, si chiama Mi Spendo per Te, questo servizio, è un aiuto per i meno giovani e per chi è in quarantena. Il giornale pubblica il numero di telefono da contattare, che lo vedete in questa immagine. Ecco, se avete il telefonino portato di mano scattategliela sullo schermo del televisore di casa, così vi rimane l'impresso. 0721 38 76 16, togliamo tutte, ecco, così lo vedete meglio. E così, se avete bisogno, lo contattate. Servizio in collaborazione con Aspes, Pieri dice, solo per chi ha davvero bisogno. Ok? Non è che uno perché dice con la scusa che ci sono i divieti di uscire di casa, si fa portare la spesa a casa. Perché andare a fare la spesa, lo ricordiamo, è comunque una necessità. Ma uno per famiglia, non tutta la famiglia come si fa di solito la domenica. Filippo aiuta i vicini in difficoltà, invece Filippo Gennari ha 22 anni, studente, si è offerto per fare la spesa e altri servizi. Se avete bisogno, chiamatemi. Al posto delle auto è parcheggiata la paura. Guardate queste immagini, cronache dal deserto, il parcheggio di viale della Liberazione a Pesaro, a destra quello del Tribunale, sotto quello della Vitrifrigo, le auto sono praticamente scomparse, non c'è nessuno. I luoghi solitamente affollatissimi, ieri mattina erano semivuoti, i parcheggiatori abusivi resistono soltanto davanti all'ospedale. Misure anche sugli autobus. Zona anteriore libera, una catenella tiene isolata la postazione dell'autista, ma gli utenti in questi giorni hanno ridotto molto anche l'uso dei mezzi pubblici. Poi per quanto riguarda invece chiese, luoghi di preghiera, chiese aperte solo per la preghiera personale, per la preghiera individuale, quindi le chiese sono aperte, ma chi vuole andare a pregare personalmente, così può andarci, facendo attenzione a stare a debita a distanza dagli altri. Mentre per quanto riguarda i funerali ci si limita soltanto alla benedizione della salma, senza parenti in giro e quant'altro, senza assembramenti. Quindi anche in questo caso, insomma, per chi, ahimè, deve seppellire i propri cari, c'è anche lo strazio di doverlo fare in pochi, pochi e così, velocemente, all'obitorio possibilmente o al cimitero, con una benedizione della salma e basta. Agenti alla stazione, lei dove sta andando? Controlli della polizia ferroviaria sui viaggiatori che arrivano in città a Pesaro e se ne vanno. Serve una seria giustificazione per i movimenti. Lo ricordiamo ancora una volta, anche se uno si sposta col treno, con l'autobus, con qualsiasi mezzo, deve avere l'autodichiarazione. Arrivo da Bolzano, ha detto uno, sono stato a trovare mia figlia, ma non so se è il caso di ritornare. Multa di 206 euro e arresto fino a tre mesi in caso di dichiarazioni false. Quindi attenzione. Carabinieri in strada per controllare gli ingressi. La prefettura munisce multe e conseguenze per chi trasgredisce. Carabinieri dunque alla porta di Pesaro ieri mattina per controllare automobilisti in arrivo e in uscita, pattuglie che si sono posizionate a Cattabrighe e sulla Monte Labattese. Intanto la prefettura ha concordato con le forze di polizia locali e i comuni della provincia come attuare le misure restrittive del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Chiaro, adesso questo era limitato al discorso della provincia di Pesaro Urbino. Adesso i controlli sono, praticamente le restrizioni sono per tutta l'Italia. Ciò non toglie che le pattuglie possano, anzi è auspicabile che siano comunque in strada per verificare le persone che sono appunto fuori casa e il motivo per cui sono fuori. Stretta sulle visite, tensione in carcere. Dopo la ribellione a Modena, l'Associazione Antigone chiede di assicurare misure di comunicazione alternative per i detenuti. La rivolta, non c'è bisogno di che ve lo spiego, lo sapete benissimo, in questo carcere dove sono state anche sette morti, è scoppiata questa rivolta perché i detenuti non digerivano il fatto di non poter incontrare i familiari, sempre per la questione della sicurezza, del coronavirus eccetera, e di conseguenza è scoppiata questa rivolta che ha portato a conseguenze nefaste. Vola da un albero, qui siamo extra coronavirus in questa pagina, vola da un albero, dicevo che stava potando, paura lungo la siligata, c'è stato un infortunio, ieri mattina un uomo di 71 anni è caduto a terra volando per almeno 4 metri, mentre potava l'albero. Disabili, SOS delle famiglie, centri diurni chiusi, sospesi anche i servizi domiciliari, educativi, per evitare il possibile contagio nei confronti di persone vulnerabili, però è polemica per questa chiusura. Anche qui il resto del Carlino pubblica 8 domande e risposte, che sono utili, una sorta di va de mecum per capire insomma cosa si può fare e cosa non si può fare. C'è invece, e lo ricordo ancora una volta, c'è un cartello che noi abbiamo inviato, un file, una fotografia che abbiamo inviato, che raggruppa il cosa posso fare e il cosa non posso fare sul gruppo di Telegram, e lo stiamo facendo girare, lo abbiamo postato anche sui social network, guardatelo, è fatto bene rispetto a quelli che si sono visti fino adesso in circolazione, spiega molto bene cosa fare e cosa non fare. Il mercato si fa e bufera invece, poi il dietro front, prima il comune tira dritto, il comune di Pesaro e il centrodestra, va all'attacco, Ricci si fermi, alle 10 e mezzo di ieri sera il sindaco impone però lo stop all'ultimo momento. L'opposizione dice, è giunto il momento di essere seri, infine la svolta decisiva, dunque il mercato a Pesaro non si fa. Non prendetevela con me il sindaco, ragazzi state a casa, Matteo Ricci ha postato un video, domenica scorso ho visto tanta, troppa gente nei bar al mare, e Fabrizio Pentucci dice, se si decide di chiudere tutto facciamolo, così si evitano queste scene. E la scena qual è? È questa, ma adesso una scena come questa, teoricamente non sarà più possibile. Perché teoricamente? Perché poi nella pratica dipende tutto dalle persone. È chiaro che poi se capita una pattuglia non può far finta di nulla, e quindi dovrà, non so come, ma dovrà prendere eventualmente provvedimenti. Ma un assembramento del genere, come è avvenuto domenica scorsa, a Pesaro, in Viale Trieste, non potrà più accadere. La legge, o il decreto adesso, è molto più stringente, e severo rispetto a prima. Poi c'è una precisazione, invece, da parte di un gestore di quei distributori automatici. qualcuno aveva segnalato al Compra e Vai 24, che, ripeto, è uno di quei distributori automatici, aveva segnalato 8 euro per le mascherine, quindi un prezzo troppo alto per le mascherine. Evidentemente, non aveva fatto caso che non è 8 euro per ogni singola mascherina, ma 8 euro per una confezione con dentro 10 mascherine. Tra l'altro 10 mascherine anche, insomma, buone, perché non sono le classiche mascherine, quelle che, insomma, costano poco e che servono a poco, ma sono mascherine di un certo livello, quindi le FFP2 con una penetrazione inferiore dell'8%, non sono le famose USA e Getta. E quest'uomo dice, il gestore dice, no, io le pago 3 euro e 60, IVA inclusa. Poi le vendiamo a 8 euro in scatole da 10. Sicuramente molta gente che ha segnalato questo prezzo ritenendolo troppo alto non ha fatto caso, appunto, che le mascherine erano 10 e non una per confezione. Io guadagno per ogni mascherina 4 euro, da cui però sottrarre le spese fisse per il locale come affitto, il costo dei distributori, la luce, il personale e le tasse. mi sento una persona onesta e leale. Sì, è una persona onesta e leale, perché in Italia con tutto quello che si paga in tasse e balzelli vari è stato più che leale. Marche, e qui siamo sul Corriere Adriatico, Marche, Italia, tutto blindato, le scuole restano chiuse almeno fino al 3 aprile, si estendono le restrizioni dunque sugli spostamenti, la giornata più pesante però per la nostra regione, 5 morti, il numero dei contagi tocca a quota 323. A centropagine invece la calata dei Lombard, voi fuggiti dal sisma, ora venite a salvarvi. La vedremo tra poco, sono due pagine che il Corriere dedica a quelli che dal nord si sono precipitati al sud, scusate, anche nelle seconde case che ci sono qui sul mare, quindi hanno lasciato e abbandonato il nord per venire qua. Chiaramente il nord che insomma è un po' così con tanti focolai qua e là e dunque molti che adesso si vedono arrivare dal nord a queste persone hanno un po' paura e quindi segnalano, controllateli, guardate bene se hanno qualche, se hanno il virus e poi li accusano come adesso venite, scappate dal nord per venire a rifugiarvi qua da noi, portanto magari chissà che cosa, ma quando tremava la terra qua da noi siete scappati e siete tornati al nord. Come dire, insomma, c'è un po' questa situazione di intolleranza qua. Andiamo velocemente nelle pagine interne. Siamo nella zona rossa, scuole chiuse fino ad aprile, il governo allarga all'intera nazione le restrizioni più severe per limitare la diffusione del contagio, assembramenti vietati, niente eventi sportivi, ci si può sposare, sposate, scusate, spostare solo per lavoro, per salute, motivi di salute oppure per qualche necessità. Medici e infermieri in prima linea, chi non ha la febbre torni al lavoro, nelle Marche 274 operatori sanitari sono in isolamento e si rischia l'interruzione del servizio, ormai la sanità marchigiana è in prima linea in questa emergenza coronavirus con 323 pazienti infetti da curare, 183 dei quali ricoverati negli ospedali e così non può più permettersi di tenere fermi in quarantena ben 274 tra medici, infermieri e operatori del 118 che in tutte le Marche sono in isolamento domiciliare dopo incontri ravvicinati o a rischio con malati da coronavirus. Dunque, l'ordine adesso è questo, chi non ha la febbre torni pure a lavorare oppure chi pensa di resti qui finché non ha la febbre. Quindi anche quelli che pensano e che dovrebbero stare in isolamento li lasciano in realtà al lavoro, in ospedale perché c'è bisogno e finché non sentono sintomi, non hanno sintomi evidenti sono lì a lavorare. Ok, questa è la situazione, siamo ripeto in emergenza, questo è stato anche un lunedì nero per quanto riguarda l'economia, andiamo a vedere le due pagine messe insieme così ecco riusciamo a leggere il titolo per intero, il lunedì nero da noi costa di più, nelle Marche per le sei aziende quotate in borsa va peggio del dato nazionale, solo TODS limita i danni, meno 7% contro il meno 11% della borsa, disastro nel mese del periodo clu del virus da Della Valle a Elica, da BS a Clabo fino a Gel e WebSolute contrattazioni del 30% contro il meno 20% che è generale. Mentre sulla, ecco andiamo a vedere quest'altra pagina, questa pagina, anzi queste due pagine, in Riviera sono arrivati i Lombardi come se fosse un'invasione, la grande fuga da Marina di Montemarciano fino a San Benedetto, le vie sono deserte, le vie deserte delle case vacanza, ora in realtà si ripopolano di auto e luce accese, sui social c'è tensione, di quella stresciante tra i residenti e richiesta di controlli alle autorità, ma anche amarezza, siete scappati quando c'era il sisma, ora arrivate di corsa, insomma qualcuno è anche cattivello. e qui poi potrete leggere i vari commenti, potrete leggere le varie situazioni che si sono create nel centro-sud delle Marche. Le terribili e la terribili escalation, 5 morte in 12 ore, Marche Nord blindato, è già in funzione della sesta rianimazione, molti pazienti trasferiti in alti nosocomi, riattivazione di 75 posti letto a Fossombrone, i sindacati dicono impossibile perché mancano i medici. Medici positivi invece al Galantara, qui mancano le protezioni nella struttura di riabilitazione ricoverati due pazienti con il Covid-19, situazione a rischio anche a Monbaroccio e al Santa Colomba, un nuovo pre-triage. Prescrizione anticontagio scatta l'ora dei controlli sempre dal Corriere Adriatico, definito in Prefettura il dispositivo di monitoraggio con tutte le forze dell'ordine, dagli ingressi alla città, ai locali pubblici, ecco cosa rischia chi viola le indicazioni. E tra le disposizioni ci sono anche la chiusura, c'è anche la chiusura dei centri benessere, sono sospese le attività dei centri benessere, non i saluti di parrucchiere uomo e donna, istituti di bellezza, servizi di pedicure e manicure, attività di tatuaggio e piercing. Lo comunica la CNA che precisa che il decreto introduce delle restrizioni ad alcune attività economiche con la sospensione delle attività dei centri benessere. Di seguito anche alcune precauzioni da adottare come l'utilizzo di guanti in lattice, di mascherine per le attività a stretto contatto con il cliente, a posizioni di informative, all'ingresso dei locali, quindi dei fogli, degli avvisi, informative anche che riguardano l'igiene, la presenza di cestini dotati del coperchio e insomma tutta una serie di prescrizioni, norme, igieniche che teoricamente dovrebbero valere anche per dopo. Speriamo che ci si prenda l'abitudine, almeno prendiamo il buono da questa tragedia e speriamo che la gente continui poi a lavarsi, a pulirsi, a sistemarsi, a igienizzarsi, a tenere puliti gli ambienti e quindi questo prendiamo e vediamo il bicchiere mezzo pieno. Ospedale al collasso, Mezzolani in trincea, il direttore del pronto soccorso di Urbino parla di ondate di pazienti, di lavoro non stop dal 9 febbraio, infermieri da altri reparti e solo tre medici. I sindacati chiedono risposte, dicono che le risposte sono inadeguate e dunque c'è il rischio dei contagi. Poi ancora andiamo a vedere le altre pagine, mi spendo per te, abbiamo visto anche questa iniziativa a Pesaro di gente che va a fare la spesa, a comprare farmaci per gli anziani che sono soli, è un servizio gratuito che riguarda gli over 65 quindi se avete più di 65 anni e siete soli in casa ecco e non c'è nessuno che può aiutarvi potete chiamare questo numero di telefono e poi naturalmente questo servizio è anche per tutte le persone in quarantena ma che non hanno aiuti. Con la protezione civile è stato attivato anche un gruppo di volontari e quindi sinergie tra Comune e Aspes questo c'è anche a Fano lo ricordiamo non solo a Pesaro scontro sul mercato alla fine decide il Premier Conte il Sindaco aveva confermato le bancarelle sollevando però un vespaio di polemiche ma le limitazioni che poi sono arrivate in tarda serata estese a tutta l'Italia hanno sospeso l'appuntamento del martedì quindi tra Ricci e i contestatori ha deciso Conte il PD a difeso Ricci non è il momento delle divisioni pesanti ricadute invece per tre imprese su quattro ma di economia avremo modo ahimè purtroppo di parlare quando sarà finito tutto quanto ne parleremo a lungo primi pazienti invece al Covid-19 il Comune dice vogliamo però garanzie si teme l'effetto lazzaretto i consiglieri di maggioranza a Camerino e opposizione sono uniti ora l'ospedale da campo per i non contagiati e gli aiuti economici per le attività a Fano invece guidava ubriaco e armato siamo di nuovo sul resto del callino sequestrata una roncola un automobilista è stato bloccato in via Flaminia dalla polizia brandiva l'arma contro l'agente di passaggio che ha chiamato immediatamente il 113 la Croce Rossa invece in prima linea ma mancano le dotazioni dice la Presidente locale Albergo Silos invece all'ex Zuccherificio il PRG non dimentica la memoria allo studio una soluzione che possa rispondere anche alle esigenze dei privati il criterio è la flessibilità questa è la fotografia dell'ex Zuccherificio dove c'è questa grande incompiuta nel progetto previsto pure un auditorio multifunzionale capace di accogliere 2000 persone armato di coltello inveisce contro i passanti bloccato dalla polizia un automobilista praticamente ubriaco era vicino a un distributore di benzina lungo la via Flaminia a Fano qualche sera fa ha spaventato più di un malcapitato perché al 113 della polizia sono arrivate delle telefonate da parte di alcuni cittadini preoccupati questo qui girava con questa roncola insomma con fare minaccioso Fano dei Cesari senza barriere ci saranno le bighe per i disabili partita la macchina organizzativa dell'evento che quest'anno sarà posticipato al 13 luglio sperando che insomma per il 13 luglio sia tutto a posto ma insomma nascite decessi sportelli sempre aperti riorganizzazione degli uffici comunali il telefono innanzitutto poi le email e il fax per comunicare dunque una sorta di manteniamo le distanze per restare in sicurezza e le distanze vengono mantenute anche nell'ambito scolastico perché come sapete fino al 3 di aprile anche gli studenti di ogni ordine grado sono costretti a casa ma non in vacanza ma semplicemente studiando in maniera un po' diversa ho visto che molte scuole tante scuole si stanno organizzando in questo caso la Marco Polo di Lucrezia ha avviato un'iniziativa con una radio addirittura che si chiama Radio Marco Polo è una web radio che ha sede a Lucrezia di Cartoceto lanciata nell'ambito della programmazione di lezioni online e si parla di questo di questo progetto di questo progetto illustrato dalla preside che dice ci siamo attivati subito e tutti dobbiamo abituarci a imparare andiamo a Urbino tomba dei genitori di Raffaello illegibile eccola qua la targa la tomba dei genitori di Raffaello con effettivamente una delle scritte che non si leggono affatto non dimentichiamoci che siamo ahimè mi dispiace per quelli di Urbino entrati nel dove almeno teoricamente insomma nella fase dei festeggiamenti i 500 anni ma credo che bisognerà un po' rivedere le cose perché insomma siamo partiti un po' così speriamo almeno nell'estate o più avanti ma ecco questo è il restauro doveva essere fatto molto prima accolto il pressing di Londeckery in Carradose per il tumulo di Barocci e i bastioni di Santa Maria e Via delle Mura il comune dice i lavori erano già in programma insieme ai busti nel parco di Piazzale Roma mentre sulla pagina della Valle del Metavo si parla dell'ospedale di Fossombrone che va riattivato perché è l'unica struttura tutta pubblica si accende dunque questo dibattito intorno al presidio dotato di laboratori e blocco operatorio all'avanguardia interviene il sindaco e per la minoranza Chiarabilli la proposta fa 8.000 like in poche ore impianto di bitumazione a Monte Felcino 12 ragioni per dire no Metauro Nostro ha presentato in provincia le osservazioni contro la richiesta di autorizzare un impianto di bitumazione appunto nel territorio di Monte Felcino un'autorizzazione che è stata richiesta alla provincia Valle Cesano da Mondolfo locale in vendita al Sant'Agostino il comune proceda ad acquisirlo Lucchetti ricorda che l'eventualità permetterebbe di recuperare un altro tassello del complesso il grande contenitore di eventi culturali sede di associazioni con spazi per mostre è tra i più importanti della provincia intanto il Corriere informa il suo elettore che l'unificazione di Marotta compie 6 anni e il comitato promotore rinvia ovviamente i festeggiamenti per la storica data perché festeggiarlo significherebbe comunque ritrovarsi stare insieme e in questo caso non è in questo momento non è il caso Mondaviese invece dietro all'ospedale di Padre Pio era Attilio De Sanctis che fu tra i protagonisti della costruzione della casa sollievo della sofferenza San Giovanni Rotondo e uno studio lo svela questa è la fotografia di Attilio De Sanctis di Mondavio per lungo tempo residente a Fano e fu lui il primo avvocato intervenuto nelle vicende legali che hanno interessato riguardato la realizzazione di questa struttura ospedaliera tra l'altro inaugurata il 5 maggio del 1956 a Senigallia due giardini diventano aree sosta sul lungomare Da Vinci 128 posti la trasformazione al Cianin per recuperare gli stalli che sono stati eliminati dal tracciato della pista ciclabile della ciclovia adriatica Monachesi dice ricaveremo altri 500 parcheggi l'assessore senigallese via Capanna invece scatta la rotatoria Meme dice un esempio di riqualificazione per l'area adiacente all'ex Mercessi l'ultima pagina del resto del canino di Urbino in tribunale arrivano i metal detector operazione sicurezza si spera di terminare i lavori entro la fine del 2020 una stanza in disuso sarà riadattata a centrale operativa e negli ultimi anni abbiamo fatto molti interventi migliorativi dice Massimo Di Patria al Palazzo di Giustizia misure importanti la tecnologia aiuterà è l'analisi del procuratore capo Andrea Boni sui presidi di garanzia qui si decide come in tutti gli altri tribunali è tutto è tutto per questa edizione della rassegna stampa che lo ricordo andrà in onda in diretta fino a sabato in una collocazione oraria provvisoria cioè alle 7.30 per dare spazio alle 7 alla messa in diretta da Santa Marta città del Vaticano dove appunto sarà presieduta dal Santo Padre da Papa Francesco la messa di Loreto invece dalla Santa Casa di Loreto riprenderà il prima possibile siamo in momenti difficili l'emergenza coronavirus ci costringe anche a noi a modifiche palinsesti che si cambiano anche televisivi da un'ora all'altra e dunque ci dobbiamo adattare e domani mattina allora ci vediamo in diretta alle 7.30 mentre oggi pomeriggio oggi pomeriggio subito dopo la messa che andrà in replica ci rivedremo per fare un po' il punto della situazione passare qualche ora in compagnia per arrivare alle 20.30 al telegiornale se avete segnalazioni come sempre il numero lo conoscete 338 4968 250 a tutti voi l'augurio di una buona giornata e arrivederci a tutti